La guida molto brillante è quella di També che continua a resistere agli insidiosi attacchi di Rosberg, il quale sembra quasi, così si può dire, addormentato dalla città tattica di gara di També e ha leggermente rinunciato in questa fase, forse si prepara a un nuovo attacco, è chiaro che ogni attacco portato con decisione comporta una maggiore usura di pneumatici, di freni, di cambio, quindi maggiori rischi, intanto anche Civer si ferma in box e quindi tutti e tre i motori non hanno turmo in corso, confermando purtroppo i timori che alla vigilia avevano contestato i maggiorenti della casa francese, da Saint-Germain, manifestano.